Andrea Congiu, una bella vittoria, l'ennesima vittoria della Torres, come l'hai vista tu dal campo oggi? Sapevamo di affrontare una squadra forte, al di là del fatto che fosse un derby, una squadra tosta che sin dall'estate era stata costruita per stare al vertice quindi l'abbiamo preparata con grande rispetto ma soprattutto con grande umiltà, penso che questa cosa abbia fatto la differenza i loro valori in campo li abbiamo visti, quindi ripeto con umiltà, ci siamo messi sotto, abbiamo macinato gioco, penso anche meglio rispetto a loro e alla fine penso che questo risultato sia giusto La state guardando la classifica? Sì e no, ovviamente veniamo da sicure vittorie consecutive che ci hanno portato lì secondo in classifica e fa piacere, però ribadisco la parola che ho utilizzato prima, l'umiltà non ci deve mai lasciare perché se siamo arrivati lì è grazie a questo, quindi sì fa piacere essere lassù, però teniamo sempre i piedi per terra Oggi avete sentito anche tanto tifo, oggi c'era più gente al campo, sarebbe bello che tutta questa gente vi accompagnasse da qui in avanti Assolutamente, è stato veramente un colpo d'occhio bellissimo vedere la tribuna ma anche la curva veramente bella piena Tutti i tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine e la loro spinta alla fine si rispecchia in campo perché noi la sentiamo e si rispecchia in quello che proponiamo in campo, quindi fa ancora più piacere che questa spinta abbia portato una vittoria e spero che da qui alla fine dell'anno continuino a seguirci in tanti Grazie, complimenti ad Andrea Conte Grazie a te